30 gennaio partenza della ponte con seria giornata spettacolare direzione succede nostro gruppo ma teo in zona valga con seria qualche centinaia di metri sotto la cima perché c'è troppo vento scusa dai perché ne stiamo camminando per scendere, pensiamo a muoversi la dai neve crostosissima neve pesantissima pesantissima, sciare è difficilissimo pesantissima Sì pesante e casin di rar cacchio fai in a a a a a a Belante Belante